Le tende, tre tenso strutture, due da 75 metri quadrati e una da 200, erano state installate lo scorso 26 maggio. Sono state smontate dopo il decreto che congela i processi fino al 30 settembre. La protezione civile regionale ha smantellato la tendopole allestita nel parcheggio sterrato del Palagiustizia Bari, dichiarato inagibile. Le tende sono state utilizzate per le udienze dal 28 maggio al 22 giugno, tra temperature molto alte, zanzare, gatti e allagamenti a causa dei temporali. Appunto, con il decreto legge del governo che ha sospeso l'attività penale ordinaria, processi senza detenuti, ossia termini di prescrizione ed indagini, non era più utile continuare a mantenere la tendopoli. Il ministro è soddisfatto, noi no. Al contrario, la Camera Penale di Bari, insieme ormai a tutti gli avvocati italiani, non ha ancora ottenuto l'unico risultato che importa, ovvero la ripresa dei processi, ha detto il presidente della Camera Penale di Bari, appunto, Gaetano Sassanelli. Stanno uscendo proprio in questi giorni i risultati della prova scritta dell'esame d'avvocato 2017-2018. È noto tuttavia che questa sia l'ultima sessione in cui trovano applicazione le vecchie regole di svolgimento, in quanto lo svolgimento dell'esame a partire dalla sessione 2018-2019 subirà notevoli modifiche. Per le prove scritte cambia il tempo a disposizione dei candidati, non più di 7 ore ma di 6 ore dal momento della dittatura dei temi. Di vieto di utilizzare i codici commentati con la giurisprudenza potranno trovare ingresso in aula solo testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, incluso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Poi il punteggio per superare lo scritto sarà necessario raggiungere 90 punti complessivi. Per l'orare con la riforma le materie obbligatorie sono diritto civile, processuale civile, diritto penale e processuale penale, oltre a deontologia forense. Rimangono poi due materie a scelta del candidato. I carabinieri del nucleo informativo di Palermo hanno fermato su disposizione della DDA 17 persone accusate di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina al traffico di armi da guerre a riciclaggio di diamanti, oro e denaro contante. L'organizzazione criminale aveva rapporti con Cosa Nostra, a cui vendeva armi e col gruppo paramilitare albanese Nuovo CK legato ad ambienti jihadisti. Frodi e accessi abusivi a sistemi informatici, sostituzioni di persone, truffe e riciclaggio. La polizia ha scoperto un'associazione a delinquere dedita al cybercrimine finanziario che ha colpito migliaia di persone in Italia. L'indagine condotta dalla polizia postale e coordinata dalla procura di Catania vede cui involte una quarantina di persone sono in corso arresti e perquisizioni.